Paolo Valori, allenatore degli allievi della Scuola Calcio Federico Giunti. Senti Paolo, ti voglio su un tema che è quello del torneo di Via Reggio, a cui so che tu sei legato. Un paio di ragazzi della nostra Valtiberina si stanno destreggiando. Lo stato dell'arte secondo il punto di vista di uno di quegli allenatori che oramai si è perfettamente callato nel ruolo di allenatore dei giovani? A riguardo del torneo di Via Reggio penso che sia una vetrina prestigiosa. Mi sbilancio dicendo che a livello di settore giovanile, più che settore giovanile perché l'età sono tutti primavera, credo che sia il più importante. Poi non è detto che uno faccia bene al torneo di Via Reggio e matematico che diventi calciatore, viceversa il percorso ancora di quell'età di quei ragazzi è ancora abbastanza variegato e ci possono essere delle evoluzioni sia in positivo che in negativo, però credo che già l'esserci sia un motivo d'orgoglio, una bella conquista. La nostra Valtiberina a livello di calciatori che proveranno a far di questa professione una vera e propria professione, un lavoro per il futuro, come è messo? Tu che sei allenatore degli allievi della scuola calcio Federico Giunti, ma che di giovani calciatori te ne intendi? Ma io, tu hai anticipato, mi sono calato. Io nella mia carriera calcistica sono partito dal settore giovanile e poi nel calcio d'oggi, pur allenando le prime squadre, sei a contatto sempre con, sia per le regole che ci sono, sia anche a volte per la necessità, lavorando anche in società, come è successo in primis a Sansepolcro, che i giovani erano il valore aggiunto della squadra. Però, ecco, mi piace lavorare con i giovani sia che riguardi solo il settore giovanile, ma anche le prime squadre. Per quello che riguarda la nostra vallata, credo che è sempre stata una fucina di calciatori. Se vogliamo, forse se ne perde qualcuno per strada, magari con qualche accortezza in più, il nostro territorio potrebbe essere ancora più motivo di soddisfazione per tutti quanti. Un'ultima domanda, forse la più importante, mister. Dov'è che un giovane si può perdere? Perché magari arrivarci, ci puoi anche arrivare a far parte di un settore giovanile importante, però quello che conta poi è il dopo. Quando si capisce che un giocatore può diventare un giocatore professionista, tu che sei riuscito ad arrivare in una delle squadre più importanti del mondo come il Milan? Diciamo, intanto, è improponibile fare il paragone con i nostri tempi perché c'erano molti meno interessi, molto meno pressioni, molto meno addetti ai lavori. Quelli che c'erano erano veramente addetti ai lavori con i fiocchi, non quelli che girano ora con tutto il rispetto e che persone qualificate ce ne sono poche. Per certi versi è anche più difficile per un giovane perché viene messo sotto pressione fin dalla più giovane età, poi ci sono i genitori in primis che hanno grandi aspettative. Questo penso che sia il primo ostacolo che i nostri ragazzi, i nostri in generale, debbano superare. A volte gli si crea anche facile entusiasmi e alle prime difficoltà magari non reagiscono proprio pensando che il calcio non è facile, il calcio altrimenti giocherebbero tutti in Serie A. Capire può essere determinato da tanti fattori, ma soprattutto credo che quello più importante sia l'aspetto mentale che il ragazzo sia già predisposto a prendere Donnarumma come esempio, credo che sia scontato. Nella maggior parte dei casi che arriva è già predisposto mentalmente prima che tecnicamente o a livello strutturale, a livello fisico.